Salve tutti ragazzi Allora In pratica già è da tanto tempo che non faccio video E praticamente Se potete Questo video non sarà un video Se potete lasciare like E praticamente scrivete Allora che cosa faccio Tipo FIFA Tipo carriera FIFA E poi scegliete le squadre voi Scrivetevi nei commenti FIFA Minecraft, Fortnite O sennò FIFA Minecraft, Fortnite E Call of Duty Però scegliete voi Lasciate un bel like E scrivete sui commenti